Ciao a tutti, spero mi sentiate tutti, ben trovati, in realtà ben ritrovati perché una parte di voi per me sono, non so, come stare a casa, volontari, operatori, amici di Vidas che condividono con noi questo momento all'interno della seconda giornata del festival, incontro che abbiamo messo a punto per celebrare i 40 anni di Vidas. Abbiamo vissuto un tempo turbolento e ieri sera finalmente si è sciolta questa tensione della preparazione, l'abbiamo visto accadere e adesso ci godiamo dei momenti speciali come questo. Io sono con Giacomo Marramao, filosofo, e Lidia Maggi, pastora, volutamente curricula, che sono in realtà più impegnativi, sono ai minimi termini perché a loro piace così, di definirsi in modo così semplice. Teniamo questo registro, io ho sentito nell'ora che precede questo momento di poter essere molto vicina e condivido con voi questo, due persone che sanno essere semplici e piene di stupore. Questo momento è dedicato alla bellezza e credo che siamo in ottima compagnia per provare a fare insieme un piccolo viaggio verso una possibilità di stare in questa domanda. Che cos'è la bellezza e che cosa può risuonare in questa forma all'interno della cornice che viviamo noi, mi ci metto anche io nella prossimità alla fine della vita. Poco fa Lidia diceva che si trova spesso a essere interpellata proprio su questa questione, che le persone che vivono all'interno degli hospice, e lei ne frequenta altri, oltre a quello di Vidas, quindi chi opera in cure palliative le chiede spesso di riflettere sulla bellezza e lei si è sentita interpellata e anche forse, non so, un po' sorpresa da questo ricorrere di questa domanda. Quindi lascio a te Lidia di iniziare e di chiarirci anche la dimensione del tuo essere sorpresa dalla domanda. Sì. Mi sentite? Benissimo, sì. Io mi dico che probabilmente questa attenzione alla bellezza viene quando ci si rende conto che il tempo si fa breve e per cui si smette di perdersi via nelle cose che sono poco essenziali e si ricerca una essenzialità che spesse volte in questi contesti è motivata dal fatto che il tempo restringendosi diventa prezioso, per cui nasce una consapevolezza che ogni incontro, che ogni momento non va sprecato. Forse alcuni tra noi sperimentano questa sensazione nel momento in cui la vita si allunga, i capelli si imbiancano e la sensazione che viene meno quel delirio di onipotenza che nasce dalla vera disposizione tutto il tempo e allora si ha la pretesa di guardare alla vita cercando di gustarla. Ecco, in questo tentativo di cogliere il buono nella vita, io leggo una delle preoccupazioni che portano operatori, operatrici di ospice a interrogarsi sulla bellezza. Forse però anche il fatto che la bellezza poi fa parte della vita e nel momento in cui si riflette sul fine vita si riflette anche sulla vita, lo sguardo va nel momento in cui si vive perché è ancora vita mentre si attraversa la soglia che ci separa dalla vita per entrare per chi ha fede nel mistero di Dio. credo che questo tema della bellezza abbia a che fare con la vita e diventare consapevoli che la vita è anche finita che la vita non è totalmente a nostra disposizione. Forse ci porta a un rapporto con la bellezza che ci spinge a custodirla, a raccoglierla, a raccontarla, a ricercarla a riconoscerla per non lasciare che ci attraversi senza averla incontrata. Ecco, mi viene da pensare questa. E di fatto questo è un po' il movimento di chi entra nel mondo delle scritture. La Bibbia è un libro che parla della vita e dà la pretesa di raccontare la bellezza della vita ma non facendone una narrazione idealizzata piuttosto provando a raccontare la vita nelle sue crisi anzi è un libro che parla soprattutto delle fatiche di stare nella pienezza di vita ma di poter cogliere nelle fatiche, nella crisi di situazioni che a volte diventano anche mortali tutti quegli elementi di bellezza che trasformano quella crisi in rinascita. Scusi professore, ma mentre Lidia parlava io ho pensato che siamo partiti dal bello e lei ha già parlato del buono e quindi siamo già a qualcosa che ci porta al vero. Mi sentite meglio con questo? Mi soffermerei più sul termine incontro. E' un'occasione quello della cura per casi estremi quando uno si avvicina alla fine, il fine vita, il famoso fine vita è l'occasione di incontrare persone che a volte sono circondate da familiari e amiche, amici a volte invece sono isolati e una cosa che mi ha colpito molto in tutte le cose che ho letto riguardo a questi 40 anni straordinari di vita è l'isolamento del malato terminale. è un isolamento che si sta moltiplicando nelle nostre società democratiche diceva un grande analista della democrazia moderna Alexis de Tocqueville, l'analisi che fece Tocqueville sulla democrazia dell'Ottocento analisi straordinaria e diceva la democrazia tiene le persone una accanto all'altra anche secondo i diritti, secondo l'idea d'eguaglianza rispetto ai diritti ma senza alcun legame fra di loro questo è un limite delle società democratiche moderne dove alla fine gli individui rischiano di essere isolati non sempre accade, certo quando ci sono istituzioni come Vidas però accade questa esperienza terribile dell'incontro con un malato terminale isolato e dove sta la bellezza di questo incontro? ma è la bellezza simile a quella che mi è capitata quando a me capita vivo a Roma, è una città bellissima, forse la più bella del mondo ma che io non amo ve lo dico in maniera molto chiara mentre mi trovo molto meglio quando vengo a Milano dove vengo spessissimo alla Casa della Cultura all'università e a fare varie altre cose la mia formazione è venuta a Firenze comunque sia poi sono stato in Germania a lungo quindi il problema vero che io vedo emergere è che ad esempio a Roma quando uno si trova in una delle piazze belle di Roma tipo Piazza Farnese che secondo me è una delle più belle del mondo in assoluto e arriva il sensatetto che ti chiede le persone lo cacciano io spontaneamente gli dico siediti e si fa una chiacchierata ti offro un caffè e parliamo qual è la tua vita? e il derelito mi racconta delle cose abbastanza incredibili della sua vita uno scopre le cose più diverse che a volte è stato anche in galera ma che a volte viene da una famiglia molto importante che lo ha espulso da cui è scappato via racconta storie e in questo senso dico l'incontro è molto importante l'incontro è la è la condizione del dialogo sia nelle retoriche laiche che nelle retoriche religiose della democrazia c'è l'idea del dialogo io dico spesso prima del dialogo è necessario l'incontro l'incontro significa anche cercare di capire l'alterità l'altro con una storia molto diversa e capirlo nella sua realtà effettiva cioè la nostra vita che cos'è? è qualcosa di biologico? no la nostra vita è biografia non biologia noi siamo il risultato delle scelte o non scelte che abbiamo fatto degli incontri che abbiamo avuto e che ci hanno modellato dei conflitti che hanno attraversato la nostra navigazione a me piace molto il termine navigazio vite la vita è una navigazione è incontrare qualcuno che alla fine della sua vita ed è in grado di farci capire qual è stata la sua navigazione può essere importante anche per noi anche se la nostra navigazione è completamente diversa anzi l'incontro più è tra diversi e più l'incontro più l'incontro ci dà arricchimento mi piacerebbe sentire da te Lidia che hai una missione pastorale che ti porta a vivere continuamente questa dimensione del riconoscimento e della corrispondenza con l'altro nella sua alterità assoluta forse ma forse in una dimensione di fede non è più così mi piace la parola incontro perché mette insieme proprio questa cosa che provava a condividere incontro per cui c'è un movimento che ti viene vicino e nello stesso tempo che ti resiste che è proprio l'esperienza dell'alterità quando tu ti trovi di fronte al mistero alla bellezza a un enigma che puoi sciogliere o non sciogliere a un'alterità che non devi violare ecco l'incontro è anche questo e anche a qualcosa che ti resiste che ti resiste per cui l'incontro è anche affrontare il conflitto di un punto di vista diverso dal tuo che mette in moto la ricerca che complica i percorsi ti fa scoprire nuovi itinerari nuove strade che apre nuove strade nel deserto della tua solitudine perché non ci sono già strade tracciate quando tu incontri l'altro e l'incontro è proprio questa esperienza di fare conti con sguardi diversi nel modo di abitare la vita e qui entro sul tema del noi siamo biografie noi siamo storiche che cosa sono le storie se non intrighi che si susseguono e che vanno sciolti no quando noi quando io avevo i figli piccolini e dovevo raccontare le storie era sempre importante costruire un intrigo da sciogliere per arrivare a una soluzione e quando mi dilungavo troppo nelle descrizioni perché non sapevo dove andare nella mia invenzione e allora allungavo queste descrizioni io vedevo l'insofferenza dei figli piccoli che invece volevano il conflitto che doveva essere affrontato e sciolto noi siamo questo noi siamo storie siamo storie che affrontano intrighi e quando incontriamo l'altro l'altro ci ricorda tutto questo che le nostre vite non sono lineari è noiosissima la vita di chi visse per sempre felice e contenta la vita è fatta di sorprese di cadute di spiazzamenti e credo che in tutto questo la sfida è cogliere la bellezza cogliere una bellezza che nasce dalla fatica su questo mi sento molto vicina alla grammatica biblica che provo proprio a fare questo a farci vedere come nella fatica del vivere quello che provavo a dire nella prima parte si si scopre un mondo inatteso un mondo impensato faccio un esempio noi apriamo la prima pagina delle scritture e ci troviamo di fronte a un Dio che crea il mondo e siamo abituati a questa idea di un Dio che crea il mondo nominandolo chiamando ogni elemento della creazione in un cantico con un ritornello fu sera fu mattina primo giorno in un giudizio anche di apprezzamento del suo stesso lavoro come sono stato bravo e Dio vide che era che era buono e Dio vide che era buono però poi se entriamo in questo racconto ci rendiamo conto che le cose sono un pochino più complesse che questo atto creativo di Dio di voler vedere vita in questo mondo parte dalla constatazione che ci sono tutta una serie di segnali di non vita di impossibilità di vita la terra che in una situazione che in una situazione di crisi in una situazione di agonizzante riesce a vedere bellezza e nel vedere bellezza la trasforma in possibilità di vita sembra il codice con cui ci viene consegnata l'idea che le nostre vite per quanto complesse per quanto tortuose possono dar vita a possibilità di vita e certo dirlo qui in questo contesto di un'associazione che si occupa di accompagnare i malati terminali sembra inopportuno ma ma non è così perché io questa cosa l'ho sperimentata quando ho incontrato operatori operatrici che lavorano negli hospice nel nel loro sguardo empatico nel nella loro presenza in quei in quelle vite affaticate nel loro voler accompagnare e lenire in tutti i modi e portare bellezza in una situazione che vista dall'esterno gridava orrore e faceva scappare e allora vi lascio con una storia di un fine vita per celebrare questi 40 anni di un'associazione 40 anni nella Bibbia è una cifra importantissima è un numero di pienezza 40 anni nel deserto il popolo di Israele nel suo cammino di formazione verso la libertà anche Mosè attraversa questo deserto per 40 anni e non entrerà nella terra promessa e c'è qualcuno un operatore sanitario particolare che lo accompagna a morire ed è niente popò di meno di Dio Dio l'ha portato sull'altura siamo nel Deuteronomio alla fine del Deuteronomio l'ultimo libro della Torah siamo sull'altura di un monte Dio mostra Mosè questa terra che le generazioni future abiteranno ma lui no e lo prepara al fatto che adesso è tempo che lui lasci Mosè non è pronto a morire il testo ci dice che ha ancora luce negli occhi e c'è ancora vigore in lui per cui c'è una certa resistenza allora Dio che cosa fa? lo bacia con un bacio gli ritira il respiro quel respiro iniziale e poi non è finita lì perché Mosè muore Dio lo seppellisce e nessun israelita sa dove Dio lo ha sepolto per cui c'è questo rito funebre celebrato nel 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 privato con questa celebrazione intima personale non non pomposa a me piace immaginare che di tanto in tanto su su quell'altura Dio vada a passeggiare alla tomba del suo amico e gli racconti di tutto quello che questa umanità liberata ha fatto è un suggello stupendo tutte le volte che pensiamo alla bellezza al fatto che vogliamo parlare di bellezza non riusciamo a immaginare nient'altro che teologi e filosofi e questa è la conferma che guardiamo dalla parte giusta cosa possiamo aggiungere io sono stato da sempre molto emozionato leggendo e rileggendo il libro dell'Esodo perché è assolutamente straordinario anche questo finale che raccontava la pastora Maggi è importante io volevo soffermarmi adesso però su un tema che è strettamente connesso a quello che stiamo dicendo cioè la dignità concetto di dignità dignità umana cioè il rapporto tra l'idea di dignità e l'idea di umanità che è un concetto un legame questo tra dignità e l'idea di umano che si viene formando nell'epoca rinascimentale in Italia e che viene poi trasmessa al mondo intero in una idea di universale plurale un'idea di universalismo che in qualche modo va al di là del luogo e della data di nascita del corpo sessuato di una persona al di là della lingua che parla al di là della comunità lo troviamo nella grande letteratura del rinascimento italiano in parte Dante l'aveva anticipata ma soprattutto in Giovanni Pico della mirandola lo troviamo questa idea della dignità umana e però in questa idea di universale plurale viene fuori a mio parere un dato molto importante che è la interrogazione su che cosa è vita e che cosa è umano in primo luogo cosa è vita e i greci avevano due termini non per fare il filosofo no come ma i greci avevano due termini per indicare la vita zoe e bios zoe e badate bene non è come alcuni amici filosofi hanno interpretato la vita biologica è l'energia vitale che ci ospita tutti noi siamo tutti ospiti della vita questo è il dato fondamentale una vita che riguarda l'intero l'intero pianeta l'intero pianeta tutte le forme organiche ma anche le forme vegetali in qualche modo hanno a che fare con questa idea di zoe è una idea che ha una sua precisa forma una forma che ci ospita e non è affatto nuda come dicono alcuni amici filosofi non esiste la nuda vita la vita non è mai nuda non è mai nuda è sempre formata sempre caratterizzata la vita può diventare nuda quando viene denudata e deredita resa deredita dal potere quello è un altro tipo di quindi da un'operazione da un'operazione come dire di schiacciamento della dignità della vita anche in questa sua forma energetica ma il bios il bios invece è la vita individuata la vita singolare diceva Aristotele una cosa molto bella bios è azione agire azione nel senso del compiere qualcosa praticamente o anche azione operata dal pensiero un agire un agire pratico o un agire teoretico un agire che riguarda il pensare il pensiero sensazione non c'è vita la vera azione dunque allora nella vita individuale la vita individuale ciò che conta è la esperienza fare esperienza delle cose quella la condizione per poterle poi raccontare e intessere storie il termine latino esperienzia è alla stessa radice del greco empeiria la stessa cosa esperienza ed empiria è la stessa radice dalla radice indoeuropea peras che vuol dire limite fare esperienza di qualcosa significa sempre viaggiare attraversare un limite attraversare un limite e attraversando un limite segnare le diverse tappe di un viaggio e questo è a mio parere uno dei nodi centrali all'interno della vita come esperienza qui è il dato e abbiamo la dimensione vera della dignità la dignità riguarda quello lo diceva già Dante e introduce una novità enorme l'intero genere umano ma la letteratura rinascimentale introduce un altro elemento e cioè la dignità riguarda l'unicità di ciascuno essere umano di ciascuna individualità è quell'elemento che da picco della piramola della mirandola poi arriva fino a una serie di grandi proposte giuridiche come quella fatta dal mio compianto amico Stefano Rodotà che ha fatto circolare in tutto il mondo una idea che sta facendo irruzione in molti paesi che arrivano alla democrazia l'idea di costituzionalizzazione della persona ogni persona umana è in qualche modo costituzionalizzata quindi riceve tutta una serie di prerogative che sono strettamente legate con i principi con i principi della costituzione ma la novità è fondamentalmente questa però ognuna ognuno di noi è unico è un miracolo la nostra biografia non può essere clonata uno può clonare i geni può anche come dire riprodurci dal punto di vista del corpo ma non può clonare la nostra biografia è una cosa irriproducibile perché dipende dall'insieme delle scelte delle non scelte di quello che abbiamo fatto o non abbiamo fatto dei rapporti che abbiamo intessuto nella nostra vita dei conflitti che abbiamo avuto e ci hanno attraversato vedete e quindi tutto questo rappresenta un unicum che nel fine vita ritroviamo anche nel malato in fondo dobbiamo pensare questo che dal punto di vista del diritto è bellissimo che questo venga teorizzato e praticato però io aggiungo un'altra cosa rispetto al tema della costituzionalizzazione della persona che noi non siamo però in primo luogo è soltanto persona cioè un soggetto detentore di diritti come tutti gli altri noi siamo una unicità unicità dice la mia amica Roberta De Monticelli è il miracolo di ciascuna e di ciascuno ognuno di noi ognuno di noi è un unicum nel complesso di mente corpo e biografia e ogni persona dalla più grande alla più umile ha una capacità unica di fare vibrare lo spazio nel mentre che entra in un luogo e ogni persona dalla più grande alla più umile fa vibrare lo spazio in maniera assolutamente unico come mai prima e mai dopo era stato fatto vi è un'unicità che riguarda il nostro corpo la nostra mente il nostro carattere è la capacità di operare una vibrazione dello spazio e l'unicità della persona va vista in questo modo e da questo punto di vista da laico vi dico ciascuna ciascuno di noi è semplicemente un miracolo se il professore lo dice da laico invece la teologa cosa dice rispetto alla mi viene da pensare che questa unicità diventa può essere un giardino o può inaridirsi voglio dire che è vero che noi siamo unici ma per essere unici abbiamo bisogno di essere riconosciuti negli altri nell'altro perché ci scandalizza il morire da soli proprio perché non c'è questo riconoscimento senza l'altro io non sono mi permetto di dire questo non è bene essere da soli non è bene che l'uomo inteso come creatura umana sia solo ma anche nella Bibbia non è bene che Dio sia solo questo Dio che continuamente ricerca la collaborazione umana persino nel progetto nel cantiere umano questo plurale facciamo la creatura umana a immagine e somiglianza di Dio io e te creatura umana insieme facciamo voglio dire che da una parte c'è la singolarità che abbiamo recuperato con la modernità ma dall'altra parte c'è la consapevolezza che siamo una comunità che non c'è storia senza che non c'è biografia senza che l'altro ci interseca proprio come lei ci ha detto noi siamo le scelte le persone che ci hanno intersecato e però nel proprio nel fatto che noi siamo esseri relazionali la nostra bellezza è nella nostra capacità di mettersi in gioco la nostra bellezza è attraversata da un dolore da un rischio da una fragilità da una perdita cioè tutti coloro che sono legati in modo intimo ad alcune persone sanno che questo legame può essere sciolto in qualsiasi momento della vita perché l'altro può esserci sottratto perché è inciso nel DNA di una coppia che uno dei due rimarrà senza l'altro noi affrontiamo questo tema del fatto che la vita non è mai nuda è in situazione e la vita non la controlliamo è è un dono mi viene da pensare che dietro tutta questa immagine del cammino per abitare una terra che è in dono ci sia un'immagine parabolica di quello che è la nostra esistenza noi facciamo un cammino per abitare la nostra terra che comunque siamo chiamati a lavorare e custodire come contadini la vocazione originaria tradita dall'inizio il caino contadino la terra delle relazioni questa terra noi possiamo trasformarla in un giardino rigoglioso questa terra noi quando ci neghiamo alla relazione la trasformiamo in un deserto arido che impedisce a qualsiasi forma di vita di essere ma questa terra è anche una terra che ci viene consegnata in prestito mi piaceva questa immagine che ci veniva consegnata è qualcosa che non ci appartiene e fatichiamo a conciliarci con questa idea forse è anche per questo che fatichiamo così tanto a lasciare andare a lasciare andare la vita che abbiamo abitato a lasciare andare le persone che ci hanno attraversato e guardate qui non sto banalizzando il dolore di un lutto che richiede i suoi tempi ed è bene che ci sia perché il dolore di un lutto è la manifestazione di un legame importante per cui di una pienezza di relazione che noi abbiamo incontrato a volte abbiamo bisogno di ascoltare storie che ci raccontino come affrontare questa esperienza universale che è abbiamo bisogno dell'altro per essere siamo esseri in relazione non è bene che la creatura umana sia sola persino Dio non è bene che sia solo ma il dolore struggente di una perdita sembra renderci incapaci di pensare che si possa ancora lavorare e custodire la terra e allora io volevo consegnarvi un'altra immagine questa volta vado in un'immagine di giardino un'immagine di giardino ed è il libro del Cantico dei Cantici un libro che parla d'amore che mette in scena l'amore ritrovato che mette in scena il giardino primordiale che ha subito tutta una serie di mutazioni inquinamenti ecologici e che viene e che viene ristabilito nella relazione di una giovane coppia ecco questo canto di amore ci consegna anche il tema della perdita perché se la relazione con l'altro è riconciliata l'altro non ti appartiene l'altro ti sfugge non è a tua disposizione e tu affronti anche il conflitto ci sono due scene notturne in una c'è una perdita ma c'è una ricerca e un ritrovamento lei alla fine dice non lo lascerò andare finché non l'avrò condotto nella casa dove mia madre mi ha partorita nella seconda scena ed è tutto molto buio è una scena notturna è quasi un sogno questa ragazza è nel suo letto mentre il suo cuore veglia e sente la voce dell'amato che gli dice aprimi e lei temporeggia mi sono torte vestiti mi sono lavata i piedi come me li leverò ma ecco che l'amato mette la sua mano all'interno del chiavistello e questo desiderio di ferito si accende lei ed è pronta ad aprire la porta dell'amato ma l'amato se n'è andato non c'è più e lei è come impazzita lo chiama lo cerca e poi incontra le guardie che dovrebbero custodire la relazione amorosa le sentinelle che nella scrittura sono coloro che sono chiamati a custodire e che invece queste sentinelle l'aggrediscono le tolgono il velo c'è proprio una scena di stupro e lei si rivolge alle compagne che le aiutano a cercare l'amato perduto e le compagne gli chiedono ragione di questo amore di questa singolarità dell'altro ma perché tu ci invochi così perché questo rispetto a mille altri e allora accade qualcosa la forza della biografia della narrazione biografica perché lei inizia a rendere ragione di questo amore di questo legame racconta racconta chi è il suo amato lo descrive in tono un po' stucchevole un po' ingenuo è giovane questa ragazza voi mi chiedete chi è il mio amore fra mille chi è dunque l'amico tuo più di un altro amico più bella fra le donne chi è dunque l'amico tuo più di un altro amico che così ci scongiuri o l'amico mio è bianco e vermiglio si distingue tra i diecimila il suo capo oro finissimo le sue chiome sono crespe nere come il corvo i suoi occhi paiono colombe in riva ruscelli che si lavano le sue gote via di seguito tutta questa discrezione molto fisica dell'amato fino alle gambe il palato la dolcezza tale l'amore mio e accade qualcosa mentre la ragazza racconta l'amato perduto in una scena che è quasi una scena di lutto l'amato si fa presente nel ricordo nella memoria nella narrazione che la ragazza si fa e chi ha attravestato un lutto sa di cosa parlo quando la narrazione diventa presenza reale e certo uno può dire cinicamente non mi basta non mi basta oppure può dire questo è qualcosa che non avevo previsto perché guardate che nel momento in cui la ragazza può condividere la propria perdita e il proprio dolore con le ragazze di Gerusalemme con le sue compagne improvvisamente in questa descrizione sembra che la perdita il lutto la sofferenza è totalmente dimenticata ecco noi siamo queste strane creature siamo miracoli ma siamo miracoli che hanno bisogno di mettersi in relazione e nel metterci in relazione rischiamo di affrontare la perdita perché l'altro ci può essere sottratto e dobbiamo fare conti con questa perdita dobbiamo fare conti quando la perdita è avvenuta e l'elaborazione del lutto che avviene attraverso una narrazione un ascolto può portare a una consolazione che non viene solo dal fatto di essere accompagnati da amiche e già c'è tanto nella Bibbia come nella vita questa è anche una cosa che io sperimento nell'esperienza pastorale mi sorprende sempre che nel dolore a volte le persone non chiedono di essere liberate dal dolore ma di non essere lasciate sole del dolore l'orante nei salmi che dice perché tu sei con me è in te che io trovo consolazione per cui non mi lasciare non chiede di essere necessariamente liberato dalla fatica della malattia ma di essere accompagnato nella malattia e allora c'è una vocazione divina che Vidas ha preso avendo lavorato e custodito questo giardino questo terreno da brava contadina questo deserto che ha attraversato in questi 40 anni che è diventato un giardino un giardino che rivela questo tratto di questa creatura umana vita sfatta immagine e somiglianza di Dio che non lascia solo chi vive nel dolore proprio come Dio non lascia solo secondo la richiesta dell'orante chi vive nel dolore e che è disposta ad ascoltare la narrazione di chi ha perduto e custodirla e farla propria e quando questa narrazione è custodita qualcosa si mette in moto una nuova vita una vita ritrovata una vita diversa parole narrazioni che diventano presenza reale e anche questo è un modo di rinascere non è vero non lo sperimentiamo anche noi rinasce la persona che abbiamo amato mentre la rievochiamo non voglio qui addolcire lo scandalo della morte il mistero della morte che ha anche il suo lato bello misterioso ma anche il suo lato crudo terribile che non vogliamo tacere però la morte diventa meno terribile se non si è lasciati soli se la memoria di quello che siamo stati è custodita da qualcuno che abbiamo amato se abbiamo attraversato questo miracolo che siamo mettendoci in gioco anche accettando il rischio di soffrire perché l'altro può esserci sottratto vorrei dire alcune cose che sono stimoli che mi ha suggerito l'intervento della Bastora Maggi cioè in primo luogo la comunità è essenziale noi viviamo esseri umani in comunità ma la comunità non deve essere intesa in senso in senso olistico e tantomeno in senso paternalistico perché allora avremmo avremmo tutta una serie di soluzioni che abbiamo in alcuni paesi che hanno scatenato la guerra recentemente nel cuore dell'Europa ma deve essere una comunità che esalta l'unicità della differenza della differenza singolare per usare un'espressione filosofica dobbiamo cominciare a pensare la comunità non più a partire dalla identità termine che io detesto che è pericolosissimo ma a partire dalla differenza la differenza è la trama ontologica dell'universale cominciamo a pensare la differenza come il criterio attraverso cui noi costruiamo l'universale nessun universale può essere legato al concetto di identità senza essere un universale autoritario violento quindi che riduce le possibilità e qui andiamo al problema del conflitto cioè incontro conflitto nella dinamica delle relazioni interumane sono un fattore essenziale un fattore energetico essenziale il conflitto è un fattore cioè mentre viceversa la guerra è una neutralizzazione del potenziale energetico del confronto e del conflitto che si può dare tra le parti neutralizza tutto appiattisce tutto svilisce ogni cosa e guardate bene qui secondo me si apre cioè quando quando molti mi dicono ma tu allora sei pacifista no rispondo come Gino Strada vecchio amico io non sono pacifista sono contro la guerra per la semplice ma decisiva ragione che la guerra non può essere umanizzata può essere semplicemente abolita sradicata certamente se uno viene aggredito è inevitabile la resistenza questo non c'è dubbio ma non dimentichiamo che la guerra è sempre una perdita per tutti una perdita di energie potenziale energetico enorme dell'umanità andando a lo stiamo vedendo lo stiamo vedendo con città straordinarie che vengono appunto massacrate e distrutte dalla guerra donne bambini che vengono uccisi insomma è una situazione assolutamente proprio intollerabile quello che sta accadendo ma andando al singolo io sono convinto andando all'esistenza singolare ogni persona che muore e lo dico da laico radicale credo che ci sia più rapporto tra un laico radicale che un credente radicale religioso radicale di quanto in genere non si pensi ogni persona che muore è la chiusura di una finestra sul mondo una prospettiva di meno una prospettiva che ci impoverisce a me di cari amiche e cari amici che sono morti durante il covid mi manca il loro modo anche caro amico che è stato legato a vida come Salvatore Vecca mi manca il dialogo con lui il suo modo di guardare le cose del mondo mi mancano le battute che ci facevamo gli scherzi le risate e quindi questo scambio di vedute sul mondo gli occhi di ciascuno durano tutta la vita quando non c'è più quegli occhi si chiudono e soltanto la memoria può indurci a immaginare come avrebbe reagito davanti alle cose lo dico questo per questo la memoria è molto importante ultima cosa e chiudo nessun filosofo lo ha detto neanche Montegne che è pure un filosofo che amo filosofare e imparare a morire no 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 vita morte aveva più ragione Joyce un grande scrittore basta scrivere vita e morte con le maiuscole la vita e la morte con le maiuscole non esistono esistono i vivi e i morti e dobbiamo pensare alle biografie di entrambi perché perché come avevano colto i grandi pensatori del rinascimento italiano uomo umano uomo viene da humus da terra si diventa umani quando si comincia a seppellire i morti e a conservarne la memoria questa è la prerogativa dell'umano quando si mantiene la memoria dei morti e come diceva Joyce nell'ultimo The Dead dell'ultimo grande racconto dei Dablers dei racconti di Dublino dove non si parla di vite e di morte ma si parla dei morti delle loro biografie e di come è possibile farle rivivere credo che ci siamo commossi tutti e abbiamo riso insieme e non lo so io sento che siamo tutti più vicini di quando siamo arrivati qui perché abbiamo condiviso questo tempo parlando di bellezza e di dolore e di abitare la terra e farne un giardino e di riconoscerci nell'altro e di perdita mi piacerebbe non so se qualcuno di voi vuole dire qualcosa che può essere una piccola testimonianza forse una domanda che abbia la forma di qualcosa che sentite di voler dire in questo momento in cui siamo alla conclusione non so dite e vi passiamo il microfono siamo senza parole mi sembra una prego mi sentite il conto prima è stato il senso la città e sulla forza di conflitti che vengono riparati in maniera orizzontale adesso si parla allora che l'incontro l'incontro prima è stato sulla giustizia riparativa sui conflitti che vengono riparati nel riconoscimento l'uno dell'altro adesso si si torna su questo tema del riconoscimento parlando di di vivi e di morti e di giardini io credo che quello che sta succedendo in questi giorni qui al franco parenti grazie a questo festival grazie agli sforzi di vidas sia qualcosa di molto diciamo di meraviglioso non posso dire magico davanti alla pastora però qualche cosa di magnifico e già in questa connessione di idee di contenuti di esperienze di verità c'è un incontro meraviglioso per cui volevo ringraziare vidas di questo e ringraziare voi per averci portato le vostre riflessioni e anche averci dato molta emozione non so se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa mi sembra una bellissima conclusione grazie a tutti i libri i libri di Lidia Maggi e di Giacomo Maramao come altri libri che sono i libri degli autori che hanno donato doneranno oggi e domani il loro il loro tempo in questo festival sono acquistabili all'esterno vicino all'uscita per chi volesse approfondire la stanza no la stanza dell'incontro scusate al primo piano grazie Valeria e poi Giada Sala Treno Blu la stanza immersiva un'installazione artistica realizzata con le voci degli operatori dei care giver e dei pazienti ad hoc dal collettivo di Mav di Udine e alle 19 no alle 18 l'appuntamento è con Giada Lonati medico direttrice sociosanitaria di Vidas che dialoga con Gian Giacomo Schiavi a partire dal suo libro Prendersi Cura con letture di Annina Magliani quindi alle 18 qui fuori nel foyer e questa sera a questo punto finiamo con gli appuntamenti della giornata alle 20 e 30 Virgilio Sieni coreografo danzatore realizzerà una performance con i caregiver operatori di Vidas che operatori e caregiver appunto che danzeranno con lui una danza all'insegna dello stare davanti agli occhi degli altri grazie 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 grazie